Per la città d'Imperia ovviamente, ma anche per la sanità della Liguria. È una struttura nuova, moderna, che credo impersonifichi bene la necessità di migliorare e di cambiare passo, ovviamente per quanto riguarda la logistica, gli immobili, ma anche l'organizzazione della sanità ligure. Stiamo modernizzando l'intero comparto della sanità, credo che si stia facendo un gigantesco lavoro, quest'opera portata a termine, la sua entrata in funzione è fondamentale, penso, per la qualità del servizio che prestiamo ai cittadini ed è la stella polare che dobbiamo continuare ad avere, cioè quella di fornire ai cittadini un servizio sempre migliore, sempre più efficiente, rendere efficaci ed effettivi quei diritti alla salute che tutti devono avere e farlo con costi e capacità sostenibili per una finanza pubblica che ovviamente soffre sempre della spending review e della necessità di mantenere degli equilibri dettati dalle regole in cui siamo. Quindi credo che sia un deciso passo avanti per la sanità d'Imperia, per questa ASLA, ma anche per tutta la Liguria è anche un esempio della qualità che deve concentrarsi sia in termini estetici, sia in termini funzionali, sia in termini di prestazione. Grazie.